musica 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 io voglio comprare una casa vicino al mare io ho viaggiato tanto ma un mare so beautiful I didn't find often come a Hawaii io ho visto tutto tutto ero lido ma paragonare gli Hawaii che è uno dei posti forse se parliamo del mare più belli del mondo con la mia terra la Puglia è un bel confronto non è male essere numero due non è male essere numero due non è male essere numero due cosa devo fare prima penso solo lavoro lavoro ma qui senza troppo lavoro sto pensando quindi se io lavoro tu hai una famiglia è perfetto io lavoro musica 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 FORE